con il volto sorridente di tazio nuvolari partiamo per il trofeo tazio nuvolari da mantova quest'anno anche noi dc driver lo seguiremo a bordo di una lamborghini del 64 tappa dopo tappa ci rivedremo l'equipaggio famoso enrico brignano eccolo qua ciao salve eccoci qui siamo un duo e cercheremo di fare i tempi migliori specialmente nella tappa in cui si va al ristorante esatto per prendere i posti migliori cercheremo di stringere i tempi io arrivo prima nel senso del ristorante fai portare l'antipasto grazie a dopo ciao ciao guido nel gran premio nuvolari una lamborghini super leggera del 64 gentilmente prestata da un amico coadiuvato da un istruttore secondo pilota copilota un amico che è filippo perini responsabile del centro stile lamborghini che cosa ci racconti di curioso su questa vettura ci stiamo divertendo su una lamborghini 350 gt è la prima vettura prodotta in serie dalla lamborghini e del 64 proviene da un disegno originale di franco scaglione viene migliorata dalla carrozzeria touring per quello leggiamo super leggero sul cofano e come potete vedere un disegno estremamente elegante profilato e direi molto attuale noi siamo qui al gran premio nuvolari per iniziare a preparare le celebrazioni dell'anno prossimo che culmineranno con l'evento clou che sarà il giro d'italia lamborghini che partirà da milano il giorno 7 di maggio e terminerà a bologna il giorno 11 di maggio proviamo le prove a cronometro sia sulla strada che nel circuito di misanno se ne saltiamo addio iscrizione andiamo siamo tornati a mantova dove è iniziato il gran premio nuvolari tre giorni 1700 chilometri abbiamo fatto mantova siamo scesi chiaramente giù per poi risalire un pezzettino ancora di toscana per poi risalire da rimini ferrara e ancora un'altra volta mantova 25 ore di guida una guida eccezionale in mezzo a tantissimi gioielli compreso quello che ho avuto l'onore di guidare ci sarà anche saltranno il gran premio io non lo so sarò in altri gran premi